Ciao a tutti, eccoci qua per analizzare il primo brano, Vivaldi, La primavera, Allegro. Quattro quarti, quindi ogni battuta ha quattro movimenti da un quarto o comunque dei suoi sottomultipli o multipli, ok? Per cui è un brano che inizia in Levare, ci siamo, per cui la somma di questo anacrusico, il primo ottavo, il primo quarto, si somma poi all'ultima battuta che ne ha tre per avere la, diciamo, avere la totalità dei movimenti in una battuta. Poi abbiamo visto in una spiegazione complessiva che non c'erano delle note particolari, dei tempi, delle durate particolari, ma sempre delle semi minime, delle crome, delle minime col punto, per cui questa vale tre movimenti, giusto? Quindi contiamo uno, due, tre, quattro, ci siamo, uno, due, tre, quattro, uno, ok? Ogni movimento ha sempre un battere e un levare. La nota col punto, il punto vale, fa aumentare la nota vicino della metà del suo valore, della nota vicino a cui è posto il punto. Sono stato un po' confusionaria, però tanto voi lo sapete, nel senso, se il punto è vicino a questa nota minima che vale due quarti, quindi il punto vale la metà di due quarti, quindi un quarto, il totale vale tre quarti, quindi tre movimenti in questo caso, va bene? E altre cose da dire? No. A livello di struttura, no, tranne che poi alla fine c'è il ritornello e quindi si torna da capo. A livello di suono, forse qualcosa in più, ah, ecco, allora, siamo in, con un, un bemolle in chiave, il si bemolle, quindi la tonalità è in fa maggiore. Questa, questa tonalità non l'abbiamo ancora vista, è la sistemazione e suddivisione dei toni e dei semitoni nelle scale maggiore o minore e delle diversi tipi di scale minori, ma questo io ve lo dico ogni tanto, così lo rivedremo meglio se riusciamo entro la fine dell'anno, altrimenti pazienza, non muore nessuno se lo facciamo in un altro momento. Però quello che ci interessa sapere, e man mano intanto, anche se non sappiamo la teoria e il concetto, comunque lo riconosciamo, è che questo segno è il bemolle, ok, l'abbiamo già visto altre volte, fa diminuire la nota di un semitono. Quindi, per una questione di giro di quinte, eccetera, quando il bemolle è il primo bemolle che si mette della serie, del circolo delle quinte, il primo bemolle che si mette è sulla terza linea, che è quella del si, quindi cosa vuol dire? Che tutti i si, in qualsiasi altezza, che siano scritti su questa terza linea, che siano scritti sopra, che siano scritti sotto, in qualsiasi chiave, non vengono suonati in modo, con un si naturale, ma vengono suonati un semitono più sotto, il famoso si bemolle. E questo cambia anche con la posizione del flauto, poi lo vediamo quando vediamo sul flauto. Se per caso il si deve essere suonato naturale, ritorna quindi quel si alla sua altezza naturale, noi, accanto al si, troviamo questo b quadro, ok, che fa, che elimina le alterazioni in chiave. Quando l'alterazione in chiave, quindi dove c'è la chiave, questa è la chiave di violino, possiamo vedere la chiave di violino, il solo, la chiave di basso, il fa, eccetera, si chiama alterazioni in chiave, vuol dire che vale sempre per tutte le note. Se io non voglio suonare questa nota, in questo caso tutti i si più bassi di un semitono, devo mettere il famoso b quadro. E il b quadro, vicino a quella nota, il si, vale per tutta la battuta, ma quando finisco la battuta, ritorna ancora ad essere si bemolle. Quindi se io devo ancora continuare a suonare il si naturale, o cambio tonalità e tolgo il si naturale, oppure, però, va bene, oppure metto, quindi, proprio due stanghette e cambio tonalità, ok, tolgo, rimetto la chiave di violino senza alterazioni, altrimenti, se è momentaneo, anche se si ripete, metto di nuovo il segno del b quadro. Ci siamo su questo. Allora, a noi interessa, solo per sapere che quando dobbiamo fare il si, non dobbiamo suonare la posizione del si naturale sul flauto, neanche intonarlo, si naturale, ma si bemolle. Quindi, le note che ci sono qua, che dobbiamo suonare, arrivano, vanno dal, e qua c'è sempre l'estensione, vanno dal do al re, cioè, il do che noi chiamiamo do tre, quindi il do centrale, eccolo, qua, ok, al re quattro, quindi questo è il do quattro, l'ottava sopra, il re, eccolo qua, uno dei re è questo, ci siamo sulla quarta linea. Bene, allora, quindi, se noi dobbiamo solfeggiarlo, vediamo se riesco a leggere al contrario, facciamo uno, due, tre, fa, la, 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 sol, fa, do, giusto, do, o, do, si, la, 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 sol, fa, do, o, do, si, la, si, do, si, la, sol, mi, do, fa. Qua, qua è come se ci fosse un altro, poi lo sentirete con la musica, che inizia un'altra frase melodica, quindi, andiamo da qua, fa, il levare, la, 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 sol, fa, do, do, si, la, sol, un, fa, do, si, la, si, do, re, do, Fa Do Si La Si Do Re Do Fa Re Do Si La Sol Fa Sol Fa Un Fa Do Si La Si Do Re Do Fa Do Si La Sol Fa Sol Fa E poi ricominciamo da capo. E questo pezzo, come vedete, ogni frase melodica inizia in levare. Ci siamo? Quindi, difficile? No. Vediamo i passaggi, vediamo le posizioni del plato. Io poi magari ve lo suono a pezzettini, oppure un pezzettino alla volta, lentamente, sempre per studio, come lo sapete benissimo. E poi, ridico quello che avevo detto nell'altro video, avete anche le basi. Una base, quella che era allegata al libro, e un'altra invece un po' più lenta. Però potete benissimo anche fare poi la vostra esibizione anche senza le basi. Quindi, l'importante è mantenere sempre la sua divisione corretta. Allora, Fa. Prima nota è Fa. Vediamo le posizioni. Fa, La, 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 Sol Fa Do. Do, Si, La, Si, Do, Si, La, Si, Do, Si, La, Sol, Mi, Do. Ci siamo? Avete capito dove siamo? Poi andiamo avanti. Ultima nota, quindi quarto movimento della battuta numero sei, l'ultima del primo rigo. Quindi, vi cominciamo da questo Fa. Ok? Questo Fa. Ed è ancora di nuovo come l'inizio, no? Fa, quindi è... Si vede oggi che c'è un rossetto. Allora. Fa, La, 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 Sol Fa Do. Do, Si, La, 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 Sol Fa Do. Do, Si, La, Si, Do, Si, La, Sol, Un Fa. Ci siamo, quindi? Siamo arrivati alla battuta numero dodici. Iniziamo sempre col Fa. Ci siamo? Cosa vi devo dire? Il portavoce è sempre chiuso dietro, eh? Ricordatevelo. Andiamo avanti ed è... Fa, Do, Si, La, Si, Do, Re. Quello che è il portavoce aperto. Re, Do, Fa, Do, Si, La, Ok? Si, Do, Re. Io non posso tenerlo, tengo così. Do, Fa, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, Fa, Un. Di nuovo, siamo a battuta numero 19. Iniziamo col Fa. Ultimo movimento. Fa, Do, Si, La, Si, Do, Re, Do. Fa, Do, Si, La, Si, Do, Re, Do, Fa, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, Fa, Ok? E poi ricominciamo da capo. Vediamo un attimino lentamente. Allora. Allora. E' arrivati alla battuta numero 12. Le varie di 13. e' arrivati alla battuta numero 12. e poi ritornerlo